La stagione di tagliare il frumento Era la stagione di tagliare il frumento, andavi via, facevi la strada con la sesola e dopo quei buoi, e si metteva da una parte e dall'altra una decina di persone per qua, una di qua, legava su Ma quei buoi, con quel caldo, con la lingua fuori, sai? Un pari via i buoi, un via su, e 7-8 da una parte e 7-8 dall'altra che legava questo frumento La miettitudine del frumento era una cosa molto lunga Qua era la sera che erano là, che stava a ligare, manca femmine, tose, trottatei, tutti fuori, tutti Dopo li hai portato a casa? Dopo li hai portato a casa e poi su Quando li portavano i suoi sacchi per qua, li trovavano 3 cari qua fuori E tu ti portavano su, no? E su, e giù, e su, e giù, i soqui, e sotto le broche, trim, 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 trim Avete il merito di aver consumato gli scalini? Eh si? Sì Grazie 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 Questo era anche il luogo dove veniva ammassato il Gran Turco E qua venivi con i affari da via Uno davanti, uno si metteva qua e l'altro di là, come te adesso Passavi A spararlo, a far prendere aria Per evitare le muffe Eh si Ogni quanto veniva fatto questo lavoro? Ogni 8-10 giorni Sì E sempre a turno A turno veniva su Le varie famiglie secondo il calendario stabilito Delle servitù obbligatorie Eh si Da quanti che Pannocchi portavi su e le facevano conti Quanti E venivi sempre gratis Forse ti davano un bicchiere di vino Sì E dopo la macchina, la via la macchina La sgranatura veniva fatta qua Sì E dopo veniva mossa la granella Prima ti portava i sacchi Dopo gli ha fatto la porta lì E venivano a farla Con quell'altra ti portava i sacchi E prima Vieni sempre a portare Coscivolo Ogni famiglia Fai con quante famiglie che era E quanti quintagli che veniva su qua Veniva sicuro 10.000 quintagli Perchè tu ti portava qua Da Rai, da Ravissa Certo, certo Da tutte le varie case messageridi che erano In media metti 100 quintagli ogni famiglia Non portava su Perchè no Cos'era qua a Medea Se era 350 400 quintagli Il che vuol dire 10.000 sacchi Che salivano In spalla Con i zoccoli Su quelle scale Girati Ogni 8 giorni Sgranati Con quella macchina Rinsaccati Altri 10.000 sacchi Giù per quelle scale Solo per il mais Qua c'era il frumento Poi c'era la seta Il frumento andava giù là E' così La vita No 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 Grazie a tutti